Il gatto con gli stivali. C'era una volta un mugnaio che aveva tre figli. Quando morì lasciò il suo mulino in eredità al più grande, un asinello al secondo e un gatto al minore dei suoi figli. Quest'ultimo si lamentò della misera eredità ma il gatto lo rassicurò. Padrone procurami un sacco e un paio di stivali e vedrai che farò la tua fortuna. Il giovane rimase a bocca aperta quando sentì il gatto parlare e benché dubbioso si lasciò convincere da quell'animale così straordinario. Il gatto andò in un campo vicino, preparò una trappola e l'esto catturò due pernici. Poi si presentò al palazzo del re. Quando fu davanti al trono alzò il sacco con le pernici con una grande riverenza e disse da parte del mio signore il marchese di Carabà eccovi due grasse pernici ancora vive. Il re ringraziò e tutto finì lì. Ma quando il gatto seppe che il cocchio reale stava per uscire dal palazzo con il re e sua figlia si lanciò di corsa sulla strada che doveva percorrere. Ogni volta che trovava dei contadini intimava loro. Se il re vi chiede a chi appartengono queste terre rispondete che sono del marchese di Carabà o sarete puniti. Ogni volta che il re domandava che appartenesse la terra che attraversava i contadini rispondevano intimoriti. Tutto quello che vedete è del marchese di Carabà. Il gatto arrivò di corsa dal suo padrone. Entrate nudo in quello stagno. Tra poco arriverà la carrozza reale. Presto fidatevi di me. Quando arrivò il cocchio il gatto si mise a urlare. Aiuto il marchese di Carabà sta affogando. Il re allora ordinò di salvare il giovane il quale venne rivestito con un abito elegante e prezioso. Poi il re invitò il giovane sulla sua carrozza. Da molto tempo sento parlare di voi marchese di Carabà. finalmente ho il piacere di conoscervi e di presentarvi mia figlia disse il re. Intanto il gatto era già andato avanti arrivando fino al castello di un orco cattivo e ricchissimo. Il gatto salì senza indugio sul ponte elevatoio che nessuno aveva avuto mai il coraggio di oltrepassare per paura dell'orco. Che cosa vuoi urlò l'orco con voce tonante. Facendo un inchino il gatto rispose eccellenza sono venuto ad ammirare le vostre magie. Dicono che potete trasformarvi in un enorme leone è vero? Rar ruggì l'orco trasformatosi in un grande leone feroce. Il gatto allora chiese con una voce spaventata. Eccellenza leone voi che siete così grande siete capace di trasformarvi anche in un animale piccolo come un topolino? L'orco senza pensarci in un baleno diventò un topino grigio. Il gatto allora se lo mangiò in un sol boccone. Poi andrò incontro alla carrozza del re che stava arrivando e presentò il castello come dimora abituale del suo padrone. Passò un po' di tempo e il re nel vedere un giovane così bello ricco e soprattutto gentile non si oppose in nessun modo all'amore che nel frattempo era nato tra sua figlia e il povero mugnaio. Poco tempo dopo i due giovani si sposarono. Il gatto rimase al castello con i suoi padroni consigliando sempre il giovane nelle occasioni più difficili. Naturalmente per tutto quello che aveva fatto ricevette molti doni e a ogni suo pasto non mancò mai pesce freschissimo. Fine